Caricamento, sistema operativo in corso, inizializzazione, fai musica e inizializzazione DJ, bislo pronto, freccia pronto, test impianto audio tutti a 90, pronto per il decoro, 3,2,1, 1, let's go ciao a te più su quelle cazzo di mani come e gira tu te intorno a la stanza, mentre si danza, danza e gira tutta la stanza, mentre si danza, danza e gira tutta la stanza e gira tutta la stanza Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!